Mi piaceva giocare in questo stadio, intanto Castantebole si mangia benissimo per cui... Chiaro che chi vorrà stare qui saprà che il posto va guadagnato, nessuno ha il posto di diritto, ma non penso che ci sia un sistema che ci fa vincere, se no lo farebbero tutti i allenatori, chiaramente rinforzeremo la squadra. Come dicevo prima, secondo me abbiamo una base buona, ma è stata una squadra che secondo me, se no non sarei qua, anche io mi gioco tantissimi, come me lo giocavo due anni fa, me lo gioco adesso, ma tutti... Secondo me, se i miei dirigenti mi vedono che lavoro alla mattina e alla sera, poi sono contenti perché vedono che ce la metto tutta e i miei giocatori hanno come riferimento un allenatore che ti dici lavorare, però è il primo a farlo. Chi non pensa che Bologna sia qualcosa di magico, con me non giocherà, per cui lo capirà subito, con me non giocherà. Grazie, 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 grazie!